Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie 83 anni. Gli auguri della Premier Meloni, stima e riconoscenza per il garante della nostra Costituzione. Eurocamera Antonio De Caro, ex sindaco di Bari e neo-eurodeputato del PD, eletto Presidente della Commissione Ambiente. PNRR, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, positiva sullo stato di attuazione del piano. Attivate misure per il 92%, spesa complessiva superiore ai 51 miliardi. Nato, il segretario generale Stoltenberg nomina lo spagnolo a vie Colomina, rappresentante speciale per il sud. Il ministro Crosetto, infuriato, affronto personale. Etna, allerta rossa per l'eruzione, nube vulcanica di 8 chilometri, pioggia di cenere su Catania e provincia. Sospesi voli da e per l'aeroporto Fontana Rossa. Buonasera. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è espressa positivamente sullo stato di attuazione del PNRR. La spesa complessiva sostenuta è salita a oltre 51 miliardi, con il 92% delle misure regolarmente attivato. Una fotografia che rileva inoltre come le amministrazioni titolari di interventi legati al piano abbiano avviato 122 miliardi di gare rispetto ai 132 previsti, mentre il restante 8% è in fase di perfezionamento. Siamo a buon punto anche per quanto riguarda la settima rata da 18,2 miliardi, ha dichiarato la Premier, sottolineando come l'Italia sia il primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del PNRR. E la Premier Meloni ha avuto questa mattina una telefonata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che celebra oggi il suo 83esimo compleanno. Il Presidente del Consiglio ha rivolto al Capo dello Stato i più sentiti auguri di buon compleanno anche a nome dell'intero governo, esprimendo stima e riconoscenza per il garante della nostra Costituzione. Ci spostiamo in Europa. A distanza di una settimana dal suo insediamento, l'ex sindaco di Bari ed eurodeputato del PD Antonio De Caro è stato nominato nuovo Presidente dell'Envi, la Commissione parlamentare europea per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una delle più grandi dell'Eurocamera. Nel programma di De Caro è eletto per acclamazione il conseguimento degli obiettivi del Green Deal, la tutela del Mediterraneo e lo sviluppo di nuovi modelli di crescita economica, sostenibile e sociale. Parliamo ancora di nomine. Il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg ha oggi ufficializzato la nomina dello spagnolo Avie Colomina come rappresentante speciale per il Sud. Una mossa che ha suscitato l'indignazione dell'Italia proprio nei giorni scorsi. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto aveva accusato Stoltenberg di aver tradito Roma, non nominando un italiano per questa carica istituita su richiesta della Premier Meloni. È un affronto personale, ha tuonato Crosetto avvertendo ci saranno conseguenze. Restiamo all'estero ma spostiamoci oltreoceano. Negli Stati Uniti Kamala Harris ipoteca la nomination democratica per l'appuntamento elettorale di novembre. La vicepresidente USA ha già ottenuto l'appoggio di un numero sufficiente di delegati Dem. Sono orgogliosa di essermi assicurata l'ampio sostegno necessario per diventare il candidato del nostro partito, ha commentato la Harris che poi riferendosi a Donald Trump, divenuto ora il candidato più anziano di sempre, ha affermato io ex magistrata sfido un criminale. Ma vediamo con il prossimo servizio chi è Kamala Harris e qual è stato il percorso che l'ha portata oggi a correre per diventare presidente degli Stati Uniti. Nata nel 1964 a Oakland in California, si è laureata alla prestigiosa Università Howard ed è stata procuratrice di San Francisco. Diventa senatrice nel 2016 e dichiara guerra a Donald Trump, lasciando il segno con i suoi interrogatori all'ex ministro della giustizia Jeff Session, diventati virali. Prova a correre per la Casa Bianca, un tentativo che non ha successo anche se si impone come una delle rivali più agguerrite di Biden nelle primarie. Rimane negli annali il dibattito in cui Harris rinfacciò il suo futuro capo di essersi compiaciuto della collaborazione di due senatori segregazionisti negli anni 70. Quindi aggiunse di conoscere una ragazzina nera che riuscì ad andare in una scuola migliore grazie allo scuolabus per le minoranze e servizio al quale Biden si era opposto. Quella ragazzina ero io, disse, nonostante lo scontro, fu scelta come numero due d'Emma. Nei panni di vice però non ha brillato, ora sta recuperando terreno su alcuni temi come quello chiave dell'aborto. Intanto il presidente Joe Biden è tornato alla Casa Bianca per la prima volta dopo l'annuncio del suo ritiro dalle presidenziali, mentre è slittato a giovedì l'incontro con il primo ministro israeliano Netanyahu, inizialmente previsto per oggi. Torniamo in Italia, parliamo ora di porti. La DSP del Martirreno Centrale ha annunciato l'avvio di interventi legati al PNRR per un valore complessivo di 130 milioni. Nel dettaglio sono stati avviati nello scalo di Napoli i lavori di prolungamento e rafforzamento della diga forane a Duca d'Aosta, previsto il ripristino di un tratto della diga ad oggi parzialmente dissestato alla fine di garantire il transito in sicurezza delle navi in entrata e uscita, nonché il prolungamento della murata a paraonde di circa 200 metri. I lavori dovrebbero terminare entro il 30 giugno 2006. Inoltre la DSP Campana ha consegnato i lavori di consolidamento e adeguamento funzionale del lato diponente del molo 3 gennaio del porto di Salerno, utilizzato prevalentemente per le attività di imbarco, sbarco e movimentazioni di merce varie. Dal Tirreno all'Adriatico è stata attivata nei porti di Brindisi e Termoli la piattaforma Wi-Fi by Italia gratuita non solo per passeggeri e turisti in transito, ma anche per gli operatori e le comunità portuali. Il progetto prevede un investimento complessivo di 500 mila euro che consentirà di estendere prossimamente il servizio anche agli altri scali dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale. Ancora disagi per chi viaggia in aereo dopo il crash informatico dello scorso venerdì, la situazione negli aeroporti italiani non accena a migliorare con ritardi e cancellazioni, proprio in coincidenza con le grandi partenze per le vacanze estive. Situazione ancora più difficile a Catania, dove all'effetto domino del cybercaos si aggiunge l'allerta rossa scatenata da una nuova eruzione dell'Etna. Per la pioggia di cenere e la nube vulcanica, alta 8 km, sono stati sospesi per tutta la giornata i voli da e per l'aeroporto di Fontana Rossa. Al fine di limitare i danni, alcuni aerei sono stati dirottati verso gli scali di Palermo e Trapali. Dall'allerta Vulcani a un nuovo allarme climatico. Secondo i dati di The European House Ambrosetti, il nostro paese è maglia nera in Europa in fatto di perdite economiche causate da eventi climatici estremi. Alluvioni, tempeste e ondate di calore costano agli italiani 284 euro a persona. I danni economici risultano ingenti soprattutto al sud a causa della siccità che mette in ginocchio i settori agricolo e idroelettrico. Chiudiamo con la cronaca. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio colposo e disastro colposo per il crollo ieri notte di un ballatoio nella vela celeste di Scampia. Un 29enne e una 35enne sono morti per il crollo di un ballatoio nella vela celeste e insediamento popolare nel quartiere napoletano di Scampia. 13 persone sono rimaste ferite, tra loro 7 bambini tra i 2 e gli 8 anni che hanno riportato fratture e contusioni. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un cedimento strutturale del terzo piano che ha investito i ballatoi dei piani sottostanti. Molta gente si è riversata in strada tra il timore di nuovi crolli e la prensione per le persone sotto le macerie. La vela celeste è una delle ultime rimaste dopo l'abbattimento deciso per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti e cancellare il marchio di Gomorra dal quartiere. Le sette vele furono costruite tra il 1962 e il 1975 su progetto mai realizzato nell'architetto di Salvo che prevedeva centri aggregativi e spazi comuni. Negli anni sono diventate sinonimo di degrado, di malavita e spaccio di droga, da qui la decisione di abbattere e riqualificare l'area. Era questa l'ultima notizia della giornata. Noi, come sempre, vi ringraziamo per l'attenzione. Vi diamo appuntamento a domani. Buona serata.